Pronto? Chi parla? Dio! Ma tu guardate la dieta a quest'ora della scena! Come ti prendessi? Tu parli di colpo, alza un braccio alle campane! Ho parlato con Dio! Ci sarà il secondo diluvio universale! Ti amo! Ma cosa dici Clementino? Per un momento come questo la gente del mio paese mi lascia da subito! Io sto dove stai tu! Tu costruirai un'arca! Un'arca? Quel legname è Danaro! Ma chi è questo? Un toro! Te voglio sposare! Parapapero, papero, papà! Questi sono miei amici! È illogico! È umano! Clementino, i sogni non sono peccati! Testone, aggiungi un post a tavola! Non vedi che sto arrivando? Allora, non vedi che sto qua! Allora, io sto vivando! Grazie.